dopo consa rcm ravenna 2 alianzi milano 3 partita intensa vibrante tu non hai mollato fino all'ultimo mai qui ravenna speravano un po ma tu fino all'ultimo in battuta in attacco complimenti innanzitutto per la vostra prestazione grazie è stato una partita un po strano per noi perché non avevamo jean patrie e quindi avevamo il nostro secondo e quando lui non ha giocato bene diciamo che la rete era abbastanza chiusa e quindi abbiamo provato tanti tanti cosi se alla fine quinto set siamo riusciti a vincere però voi loro hanno giocato molto bene complimenti a loro cioè è ovvio che non hanno vinto una partita però non è così facile neanche qua in Italia in Serie A ogni partita è una gara e deve deve fare tutto per vincere e loro hanno fatto oggi e per fortuna nostra noi abbiamo vinto tanti quinti set avete fatto quest'anno no tanti tie break sarete stanchi come hai visto anche parzialmente ve l'hai detto ravenna perché ravenna è un po in difficoltà però questa sera ha fatto una partita combattiva di squadra sì noi siamo abbastanza abituati a giocare il quinto set non so se questo è una cosa bella o brutta però siamo così ma venna scusa la domanda ravenna come hai visto ravenna come squadra oggi loro loro hanno giocato bene avevamo problemi a fermare il loro posto lui ha giocato bene libero lì è sempre forte mi ricordo quando sì io ho giocato qua in Verona cinque anni fa adesso e lui è stato qua quell'anno lì e lui sempre gioca bene e quindi niente cioè è stata una partita dura per me in bocca al lupo ti lascio perché sei stanco stai facendo stretching complimenti ancora a Thomas Yashie ciao 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 fac 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 fac